Eccolo qui, Sufiano e il Caburi. Gara difficile da interpretare però a mio avviso Ingebrigtsen o l'USA e per quello che ho visto nelle batterie il britannico Oare potrebbero avere qualche chance in più. Manca Obzilen che poteva essere l'uomo a lanciare la gara su alti ritmi e quindi a scremare un po' il gruppo. Probabilmente ci sarà il solito canovaccio, 800 metri di trasferimento e poi battaglia a gomiti larghi fino alla campana per prendere le migliori posizioni. Vediamo il Caburi visto che è stato graziato se fa una prova perlomeno di coraggio e di sostanza fino alla fine. 1500 nell'ultima sessione pomeridiana ad assegnare i titoli. Il Caburi lo vedete penultimo lì dietro, davanti a lui c'è proprio Magidin Mechissi che si è tenuto il suo cartellino giallo squalificato dalla giuria d'appello. Per quello non è stato squalificato, è stato squalificato solo per la gara e non per tutta la manifestazione, è intervenuta la giuria d'appello a squalificarlo. Tra l'altro una cosa curiosa se vogliamo, ieri c'è stata e non ne parleremmo altrimenti se non per dire questa cosa, la cosiddetta media race, media visto che è latino, la corsa degli addetti all'informazione e tutti i francesi che correvano all'ultimo giro o all'ultimo rettilineo si toglievano la maglietta per fare un po' di circo e poi bellissimo perché arrivava il giudice con tanto di cartellino giallo prima e poi rosso ad espellerli. Era una specie di virgolette, circo mediatico in questo caso. 1.37.600 si va piano. Tappa di trasferimento. Sì, uno dei miei favoriti come spesso fanno i favoriti viaggia in ultima posizione Oara, adesso deve prendere posizione, si tiene largo per decidere lui quando provare a risalire il gruppo e il Caburi è in penultima posizione. Enrico Ingebrigtsen è il campione in carica ed è bravo con ogni tipo di gara dal punto di vista tattico, sa il fatto suo, gara lenta e ha un grande finale, gara veloce e nel frattempo da due anni fa ha messo su un tempo molto molto buono per un europeo 3.31.46. Guarda come avevo detto Oara ha già risalito, è già quarto o quinto e adesso comincia la battaglia perché qui bisogna prendere tutti, non vogliono cedere la posizione davanti. Ultimi 600 metri. Saran O'Leonard e poi scappa Chris O'Hare, il giovane inglese. Intanto è caduto Saran O'Leonard, potrebbe aver subito un contatto, l'altro irlandese Robinson è più avanti e qui c'è O'Hare con il belga Mukrim. Arriva lui? No! Arriva lui, attenzione cadono in molti, cadono in due, tre. Eh, stavolta su piano il caburi passa. Chi c'è fra questi? Il tedesco Hort. Sevis. Cattivo, cattivo, cattivo. Va a prenderlo Mukrim. Eh. Tutti e due di origini marocchine, uno belga e l'altro francese. C'è tanta di quella rabbia in corpo che secondo me lo salutano all'arrivo questo. È scappato via Magyedin Mechissi, il francese. Dietro fanno fatica a riorganizzarsi per andarlo a prendere, anzi non riescono proprio ad andarlo a prendere. Adesso deve mettersi i lanci in resta, lo sta facendo Henry King e Brickson, almeno per salvare la medaglia. Che bella l'atletica. Magyedin Mechissi, stavolta vuole solo il tifo, tanto tifo, non toglie la maglia. Henry King e Brickson è andato a prendere Tesfaye. Vediamo se tiene Inge Brickson nel finale. Magyedin Mechissi, Inge Brickson il terzo. E' da lui, ma eccolo qui, comunque il ragazzo piemontese. Gara che...